Musica Saluto al pubblico, alla giuria, applausi per Davide Maggi e la sua signora, provincia di Favia, cavallo f***o, 1930. Eccolo che si accinge a partire, da osservare in questo percorso, puntiamo al podio. Applausi 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 Svizzera che mi sembra e chiedo conferma che abbia penalità, zero penalità, brava Russia, un applauso e in campo adesso avremo Marco Angeretti, altro concorrente che carezza per la Svizzera, quindi un saluto e il direttore di campo indica con il cappello che saluto al pubblico, saluto alla giuria e da questo momento Marco può partire, intanto comunicazione di servizio, la prossima carreggiata sarà 175, parte Marco, 175 la prossima larghezza di carreggiata, attenzione, non cambiate lestima del tempo, applauso ancora per Ruta, Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. E guardate che potenza che riesce a contenere Margo in questo cammino. Abbiamo la misurazione di carità per me, non c'è la carità per me, ok. Allora possiamo salutare Milo Doriana con l'applauso. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.